Vogliamo costruire la zigurat di Marduk Allora, qui abbiamo questo foglio la pianta della zigurat di Marduk vista dall'alto l'abbiamo disegnata di proporzioni minori di quella originale che era alta 90 metri questa sarà decisamente più piccola Allora, la base, vedete, è abbastanza alta per cui l'abbiamo fatta di dimensioni quadrata con una dimensione di 30 metri quindi i lati avranno 30 metri e verrà alta 9 metri il secondo piano invece sarà 26 metri sempre a base quadrata un parallelepipedo a base quadrata alto 5 metri sono tutti parallelepipedi a base quadrata poi il terzo avrà 22 metri di base 5 di altezza il quarto 18 di base 3 di altezza il quinto 14 metri di base 3 di altezza il sesto 10 metri di base 3 di altezza l'ultimo, il settimo 6 metri di base 3 di altezza qui vediamo vista di fronte come si presenta allora, vista di fronte si presenta come una serie di gradini potremmo di chiamarli uno sopra l'altro di grandi gradini uno sopra l'altro bene, ora che abbiamo preparato le due piante sia quella vista dall'alto sia quella vista di fronte con le misure che intendiamo adottare possiamo cominciare a costruirla allora, chiudo questo file e apro il programma Google SketchUp che ci serve per costruire scelgo un template in metri e schiaccio il pulsante inizio a utilizzare SketchUp si apre la finestra del programma e clicco col destro sulla figura e schiaccio Nascondi perché ho bisogno di vedere bene il piano di lavoro poi schiaccio sul quadrato il pulsante con il quadrato e mi porto al centro dove c'è l'incrocio delle tre coordinate rossa, blu e verde dei tre assi sul punto di incrocio quando punto con la matitina vedo un pallino giallo schiaccio lì e tiro senza rischierciare in modo da tenere questo quadrato aperto per dargli le dimensioni che voglio io allora, nella barra sotto in fondo a destra c'è scritto dimensioni però io voglio che abbia 30 metri di dimensione allora scrivo 30M poi punto e virgola perché ci vuole anche la seconda dimensione scrivo ancora 30M perché si tratta di un quadrato do invio ed ecco che il mio quadrato è pronto adesso scrollando con la rotellina del mouse o utilizzando la lente di ingrandimento zoom schiacciando io posso rimpicciolire il mio quadrato poi con la mano lo piglio e lo trascino più al centro in modo da vederlo bene adesso schiaccio sul pulsante spinge e tira eccolo qui mi metto sopra il quadrato schiaccio e tiro un pochino su poi senza ricliccare tenendo aperta la costruzione vado a scrivere nella barra sotto a nella stringa sotto a destra che adesso ha preso il nome di distanza scrivo 9M cioè 9 metri e do invio ed ecco che il mio primo piano è pronto grazie a tutti